Consiglio Comunale che la maggioranza ma anche buona parte dell'opposizione è molto preoccupata sulla governance che di fatto a Città di Monfalcone rischia di non avere più nel porto di Monfalcone. Sì, oggi abbiamo presentato una mozione per riuscire a dar forza alla nostra azione, quella nei confronti in questo caso dell'amministrazione regionale ma anche del Ministro del Rio. Il decreto che è stato approvato, il 169, non consentirebbe la possibilità al Comune di Monfalcone di far parte del Comitato di Gestione e assieme invece al Comune di Trieste, alla governance di Zeno d'Agostino e alla Regione. E noi con questa mozione miriamo decisamente invece ad ottenere quello che a questo Comune spetta, a questo porto spetta, cioè la competenza a decidere. Posto che la lettera che la Presidente Seracchiani ha inviato al Ministro per l'inserimento che il decreto non ha deciso del porto nell'ambito del Sistema Unico. E a questo appunto si aggiunge la necessità che oltre alla governance a cui vogliamo partecipare si scelgano e si condividano le strategie per il piano regolatore che ricordo ancora non c'è ed è un elemento fondamentale per le scelte strategiche del futuro all'accelerazione sull'escavo. Contestualmente però abbiamo anche approvato la volontà che il canale davanti al villaggio del pescatore che dà l'accesso all'est-ovest venga rapidamente approfondito altrimenti tutte le nostre attività anche artigianali ma anche in marina ne risentirebbero pesantemente. Inoltre abbiamo aggiunto la volontà di richiedere con forza che il canale Valentinis anch'esso possa essere approfondito per consentire alle numerose imbarcazioni inattanti che ormeggiano su questo canale di poter svolgere la loro attività. Le vie d'accesso stradali vengono manutenute e non si capisce perché le vie d'accesso acquatiche non lo possano essere altrettanto con delle manutenzioni ordinarie programmate e da inserire sia per i costi che per le azioni in ogni legge di stabilità. I cittadini cominciano ad essere un po' arrabbiati o preoccupati, non solo i consiglieri perché fanno l'aeroporto, adesso non si chiama Piuronchi, si chiama Trieste, la governance del porto dove il muo falconista sta fuori, dicono ci portano via tutto. Proprio l'ho sentito anche stasera da un consigliere di maggioranza vostro. Sì, noi non mogliamo ed è per questo che oggi subito abbiamo approvato e voluto approvare questa mozione. Non è tanto un fatto di ci portano via tutto, il problema è che in Europa non esiste un porto che non è del comune. Non esiste, non si può accettare la scelta di non decidere sulle strategie assieme a tutti quelli del sistema, tutti gli attori del sistema. Per cui noi siamo oggi a dire con forza che questo è un comune che ha le idee chiare, che vuole esserci, è un comune che sa bene quali sono anche le modalità per arrivare a questa scelta. Bisogna sicuramente che la norma che regge l'impianto del decreto del Rio venga modificato. L'articolo 11 noi non possiamo starci, l'articolo 11 può tranquillamente essere modificato. Chiederemo alla Presidente Seracchiani di lavorare con noi su questo. Riteniamo di aver pari dignità, di poter dire alla nostra che il nostro porto abbia delle caratteristiche importanti da abbinare ai porti dell'Alto Adriatico.